Allora insieme ad Alessio Error Jake E Deddy Pao Abbiamo spostato le robe dalla base In conseguenza Un insider Dovuto o ad un furto d'account O a un insider E la cosa non la possiamo verificare Non ne abbiamo la più fallida idea per ora Quindi vi aggiorerò nei prossimi video Fai un riassunto Di quello che è successo ieri Cioè Ieri non c'ero Ah ok quindi tu non sai cosa è successo Allora oggi C'era Zeni Mi viene fuori a vedere Praticamente Arda ha costruito una base Accanto a noi Siamo entrati Abbiamo chiamato un po' di volte infatti anche la sua testa E dopo hanno anche Però hanno rubato Credo di spawner E ora hai preso i tuoi spawner No non li ho presi io gli spawner E tu ti spawner Ok Ok comunque c'era ancora roba nella base dell'alper L'ho preso prima Ah posso ti pare anche Zeni Eh sì Mattia tu invece hai detto che hai visto Joker Prendere qualcosa Eh sì Ci mancano un po' di prot Come ha detto Sì sì Le prot mancano Anche qua nelle casse Ma le ha portate qua E poi io l'ho visto proprio No no Io l'altra sera ho portato qua Ma non l'avevo preso tutto Ma c'è Quattro ma guarda Non ci sono Poi al secondo piano C'era una trap chest E Sono entrato lì E ho visto che stava prendendo anche roba E l'ho svuotata tutte No le trap chest Erano tutte vuote Le trap chest L'ho svuotata tutte io E niente Dove sono le safe Sono al terzo piano Sì tipati se vuoi Ci posso passare Sì Uso la fly Tanto è solo per far vedere E di fianco alle cow spawner rumore No no Sì in cima In cima vai Perché si installa ancora Ah perché hanno piazzato un blocchio di ossidiano Ok Io quest'area non l'avevo mai vista Ecco meglio che la faccio vedere almeno una volta Qui avrebbero fatto Hanno tolto anche le pressure upgrade Qua dentro Abbiamo messo dentro le chest Qua dentro le nostre robe In caso di emergenza Tipo pro 3 così Pro 3 Sparite Vediamo anche se Sparite dalla mia E questi sono accessibili dall'esterno Eh no Guarda appena entry Sulla pressure upgrade Si chiude Ah ok Quindi non sono accessibili dall'esterno Sì sì Se entry Puoi prendere la cosa Però Non è che Era tutto cremato Quindi C'è qualcuno dentro Che gli ha aperto Ok Allora come prima cosa Io direi di andare a fare il raid di Jake E posare tutto da te Attualmente Poi penseremo a fare una nuova base Eh ma qua Cremiamo Non cremiamo Non c'è più niente da prendere Io direi di inclaimare Claimare Però Ah per me è andrebbe anche bene Cosa c'è qua Io ormai è C'è uno spawner Sì Spawner erano presi tutti Sì spawner tutti quanti erano presi tutti Poi guarda qua blu È tipo di un secondo Guarda qua Sì Faccio vedere dove è vero TPA Alessio Ah ok Ok No 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 Qua Guarda qui dietro Aspetta Ah ok Questa è la famosa stanza Che mi hanno fatto Che non sono neanche riuscito A far vedere Sì va bene Allora qua Guarda Aspetta Sto picchiando gli endermen Allora Giusto per avere un po' di ender Questa è la base Quella che ha fatto Ard Sì Dove sei? Questa è la base Quella che ha fatto Ard Che ci ha rubato le cose Quella che mi ha detto E di là Se vedi C'è un'altra base Quella lì Ah c'è roba qua dentro Per curiosità No qui dentro C'erano delle pro due Ma gli ha rotto le casse Siamo entrati qui Abbiamo chillati Erano in intera Fata la coazione Abbiamo E c'è una spawner C'erano degli spawner Ma le abbiamo presi E dentro le casse qua Non c'è niente vero? Le casse degli spawner E qua c'erano delle casse Io le ho distritte tutte Ho preso due Affilatezza cinghico Ho capito Poi se viene C'è Zenka E sta facendo una strada Verso quella là Solo che In finché non c'era Ok Tutte queste strutture fuori Che io non ho mai visto Infatti Ne sono in tre giorni Però le hanno fatte Tutti Cioè da Da me No allora Una c'è da una settimana Che c'è no Quella là in fondo E da una settimana Che c'è Non c'è dentro Non c'era dentro niente Poi ho ritappato Sono uscito e niente Magari hanno messo Rimesso qualcosa No ma non c'era dentro niente Allora qui anclimo Ciò che prende oggetti Da casse E quindi qui anclimo Jake se vuoi iniziare Andare al raid Tuoi vinciti Piamo da te Dimmi va bene Dimmi no Sennò ci vado più Ok perfetto Qui anclimo Qui è claimato C'erano un paio di stock di ferro Alla base di dove siamo adesso Se non c'è più niente di valore Io direi che si può inclamare tutto Ma qui non c'è spawner Cosa devo fare? Qual è il comando? F anclimo F anclimo Toglietela F o ma appena lo fate Quindi occhio solo a quello Blu ma qui non c'è spawner Qui c'è dentro Qui sto guardando La chest room è vuota Ok ho incremato tutto Ci sono tre spawner blu Adesso vado alla home Hai trovato degli spawner? Quanto Quanto c'è sopra blu Quanto crime ho alla home Arrivo Prendo le cose di un minimo valore Alla chest room E poi arrivo da te F crime Hai dei blocchi blu? Sì Dammi così prendi spawner Quello che ci sto faccio Ma lei ha il comando per Per f climb Quanto c'è Sto andato con venuto Ah cavolo Quanto crime ho alla mia home? Quanto crime ho alla mia home? Non so Fai per tre Quindi faccio Radius2 va bene No no Nel nether Quella sotto Quella che dopo stavamo facendo Che l'abbiamo fatta La verità E' la messa di sì Aspetta blu Ah Sì E' anche aimata Ci siamo stati noi comunque a raidarla Sai Tanto Per chiarirtelo Non è stata gente a caso Perché muore il mio pet Perché Uite guardate quanta gente C'è il worm miner Aiuto Allora andiamo a fare il worm miner Dai No io sto laggando tantissimo Ehm Devo posare la roba Nella home Però ecco L'abbiamo Faccio Non vedo la porta Mi vedo solo le persone Sto scavando a casa No aiuto Cioè vado con un FPS Vi rendete conto Perché non posso andare giù E usare il fisso E compito il fisso Perché c'è giù Fido di me Fai il worm miner E poi Quando sei al worm miner Tipo Vai Subito E io sto andando Per scavare Vai subito Cioè Non andare giù O cosa Vai subito distante Prima di iniziare a fare qualunque cosa Sì Sempre quello faccio E ma l'hanno già svuotata No Cioè l'interrogato Oh Non lo so Ma oggi è sabato Non lo so Non lo so Sì Lo fanno sabato Io mi fanno delle cose Delle persone che cadono Guarda Lasciano in grado Tantissima roba Guarda Ok ragazzi Siamo nella location Della nuova Della nuova Della nuova base Non vi mostrerò Le coordinate Perché 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 sennò Non sarebbe bello Volevi Giusto Mezzo Adesso salgo un po' A voi di tipo ragazzi Cerco di andare più vicino possibile A sky limit Se volete Iniziate a comprare Ossidiana Iniziate a comprare Ossidiana magari C'è una No C'è una Non abbiamo già E allora Prendete Tipo 5 o 6 chest 6 chest Per organizzare Taglio il video Per vedere L'altezza Giusta Ok 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 ragazzi Ci siamo T-p-acept Il blocco di Ossidiana E dove comincia L'ossidiana Invece il blocco sotto È solo per fare La base Se volete farla Direttamente Ossidiana Vi è Siamo ad altezza 200 Ok Facciando qua Andare in su Dovete Spammarmi il tp No Più uno più in giù Di ossidiana Sì Ho sbagliato Ho sbagliato Ci piaccia Quanto Quanto è la base Bisogna claimare Per capire quanto Si declema Dopo però Probabilmente Non è neanche lunga Abbastanza La linea che sto facendo Sì Fino qua Il claim È gigante Anche solo così Sarebbe gigante Devo fare Devo mettere l'ossidiana Su tutto questo pezzo Bisogna capire In tutti e quattro I lati Dove arriva il claim Per fare un quadrato E come faccio a capire Devi claimare Il raggio 2 Come ti ho detto prima Però prima Adesso Aspetta Prima facciamo i punti Il claim raggio 2 Fallo da qua Da questo punto qua Poi dopo Poi ovviamente Si potrebbe fare Anche a terra Perché Fatto Prova a vedere Dove arriva il claim Toglilo Toglilo un attimo E qui il claim Si ma senza andare Fino in fondo Magari stiamo anche Quattro blocchi Prima Della fine Del claim Quattro Quattro Quindi da qua sarebbe Ok Qui tolgo Qui e lì Ok E l'ultimo di là E adesso che ho trovato i quattro punti Puoi unclaymare così possono costruire tutti Però qua mi serve che mi unclaymi per capire dove arriva il claim Allora è incremato Adesso Aspetta Vai nuovo nel mezzo e fai quella cosa di prima Aspetta Non farla ancora Ti dico io via Ok Fatto Ok Qui Via Specia Ok Qua Qua è l'ultimo Pesso non claimare Esatto Puoi unclaymare Potete fare la piattaforma Quindi togliamone cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Questo è il muro della base poi Ok Facciamo anche così Così lo capite bene Questo è il muro della base Cosa Questo qui fuori quindi Non serve Abbiamo i tre Abbiamo i vicini Cinque Poi della pianura Deserto Questo è il muro della base Ok Qui Qui Alessio sei tu Hai fatto tu i conti Per il muro Hai fatto tu i conti Per dove mettere il muro Ah si si Solti cinque qua Deve arrivare Ok Qui Uno Due Tre Quattro Cinque E qui c'è il muro Ok perfetto Ci siamo Ragazzi così si fa il layout Così abbiamo un quadrato Perfetto Ben climato Ok ragazzi Chiudo qua il video di oggi Di factions Abbiamo fatto un miner Un po' di cose Vi ho parlato della base Cos'è successo Questa ragazzi è una nuova base Ho costruito parte della base In fly Fatemi sapere se vi va bene o meno Adesso ragazzi Non è che abbia costruito così tanto Però L'ho costruito parte in fly Ve lo dico Vi va bene Non vi va bene La prossima volta O le prossime base La continuazione di questa base Posso farlo Con la fly Senza fly Come vi sembra giusto Secondo voi Perché sostanzialmente Non sono indeciso Siccome Alcuni dei player Che hanno giocato Per tanto tempo Su faction Hanno accesso Alla modalità della fly E io invece Ne ho accesso direttamente Da youtuber Quindi cosa ne pensate Voi Uso la fly Per costruire basi O meno Fatemi sapere Ragazzi Ringrazio i nuovi iscritti Che arrivano tutti i giorni Ragazzi Ringrazio Alessio Mattia Guardate Mattia Con la mia skin Guardatelo Guardate È un mito E niente ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Di Factions Grazie a tutti